Che cosa senti? Yenni? 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 O Laurel? Yenni? Yenni? Un recente sondaggio su Twitter ha rilevato che il 47% delle persone sente Yenni, mentre il 53% Laurel. Chiaramente questo ha creato un dibattito sul web, che sta dividendo la nazione. Ma cosa c'entra la scienza con tutto ciò? Il primo aspetto di cui parleremo è l'effetto priming. Se avessimo riprodotto la clip audio senza fornire la scelta tra Yenni o Laurel, forse non avresti sentito nessuna delle due parole. Ma avendole lette all'inizio, ti eri preparato a sentire l'una o l'altra. In secondo luogo, quando parliamo, produciamo onde sonore, che si propagano nell'aria. Questa è una rappresentazione visiva delle onde sonore della registrazione originale di Yenni Laurel, creata da Brad Story, un docente universitario specializzato in linguaggio e scienze uditive. Ecco qui invece la rappresentazione grafica sonora di Laurel. Come puoi vedere, lo spettrogramma delle clip audio è simile. E infine la rappresentazione grafica di Yenni. Anche qui lo spettrogramma è simile. Quindi le parole Yenni e Laurel sono acusticamente più simili di quanto si possa pensare. E ascoltarlo dal PC portatile, dallo smartphone o dalle cuffie influenzerà ciò che senti in base alla qualità audio. Ma cosa succede quando stai ascoltando dallo stesso dispositivo, ma tu e altre persone vicino a te sentite cose diverse? Il tutto potrebbe dipendere dall'età delle tue orecchie. Il suono prodotto da Yenni ha una frequenza superiore rispetto all'Oreal. E con l'avanzare dell'età, le nostre orecchie sono meno capaci di sentire le frequenze più alte. Quindi, se senti Yenni, potresti avere un sistema uditivo più giovane. Fortunatamente, con l'aiuto di internet, possiamo sentire entrambi. L'utente di Twitter, XXV, ha pubblicato l'audio con tonalità differenti. Ascoltando quella con una tonalità più bassa del 30%, sentirai Yenni. Ma quando ascolterai quella con il tono più alto del 30%, probabilmente sentirai Laurel. Il tuo cervello ha costantemente così tanti stimoli che sfrutta le informazioni esistenti e determinati percorsi neurologici per focalizzare la sua attenzione. Questo è il motivo per cui, durante una festa molto chiassosa, puoi sentire ciò che dice il tuo amico accanto a te e poi riversare la tua attenzione su un'altra conversazione quando necessario. Allo stesso modo, il tuo cervello sceglie inconsciamente a quali frequenze della clip audio prestare attenzione. Quindi, qual è la risposta definitiva? Se hai sentito Laurel, avevi ragione. La registrazione originale diceva appunto Laurel. Ma sovrapponendo il tutto con frequenze più alte, si è creata questa ambiguità. Dai un'occhiata agli altri video sulle illusioni e iscriviti per non perderti i prossimi episodi di Scienziati Subito. Grazie. 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 Grazie a tutti.